il problema è che se in caso ci fermano passiamo guai se noi diciamo stiamo usando l'applicazione itch questa qua è la mia corsa mi pigliano la macchina fanno 7 mila di multa però poi ci mette gli avvocati mi ridanno la macchina posso seguire con la stessa corsa si se stesse a forse io schiacciato ma io ho 5 euro ma fa ma io sono a fare 15 balle ma io sono solo a scoprire ma io sono solo a scoprire ma io sono a diminuire e poi c'è la mia corsa e poi c'è la mia corsa e la mia corsa come è? e la mia corsa metropolitano Sesto Sesto Marelli e poi... ah no è... l'aia ...